Con il tempo, senti che non passa il tempo Una delle immagini giovannee più importanti è il pane anche se giustamente il ruolo del pane nella Bibbia è fondamentale però in San Giovanni viene trattato in un modo diverso dagli altri è bene che il pane c'entra anche nella tentazione Gesù è stato tentato, vi ricordate, proprio con la fame e ha una simbologia importante su quello che riguarda la nostra vita il pane è simbolicamente il sostegno fondamentale l'alimento fondamentale della nostra esistenza e assume un ruolo importante e anche dal punto di vista simbolico infatti quando noi abbiamo bisogno di qualche cosa diciamo ne ho bisogno come il pane anche se oggi come oggi il pane a volte è anche un po' snobbato perché si fa ingrassare, perché noi abbiamo esigenze particolari però di fatto nella cultura, possiamo dire, mediterranea almeno il pane è il simbolo un po' di tutti i bisogni che abbiamo ed è importante in San Giovanni c'è un primo passo biblico che è proprio nel capitolo 6 è bello anche rivederlo perché associa Gesù la simbologia della fame, del pane ai bisogni dell'uomo e anche riprende anche il ruolo di Mosè perché vedete in San Giovanni 6, 5, 6 allora Gesù alzati gli occhi vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare diceva così per metterlo alla prova egli infatti sapeva quello che stava per compiere quindi vi accorgete che Gesù provoca una riflessione c'è tanta gente notoriamente vi ricordo che allora là non c'erano negozi non c'erano panefici cioè il pane si faceva in casa e si cercava di di non farlo mancare mai perché era in fondo quello che saziava di più d'altronde ha delle caratteristiche il pane che sazia e quindi la gente in pratica si nutriva fondamentalmente del pane e vedendo tanta gente affamata ecco questo è il fatto del perché lo seguiva perché non è che lui era panettiere lo seguivano per la fame spirituale ecco approfittando della loro fame spirituale perché la gente voleva ascoltare il pane della parola nutriti della parola non di solo pane vive l'uomo degno e parola che esce dalla bocca di Dio si fa il parallelo fra la fame spirituale di verità di carità di pace e la fame fisica come il corpo ha bisogno di mangiare per camminare per andare avanti così abbiamo bisogno prima ancora del pane interiore per nutrirci dentro perché se una persona non si nutre dentro rimane affamata di amore di pace di verità ci sono delle cose che noi portiamo dentro e che devono essere soddisfatte cioè se una persona per esempio non si soddisfa dal punto di vista anche della della verità è perché vive sempre nella menzogna una persona non si soddisfa dal punto di vista anche dell'affettività va cercando affetto come il pane se una persona non si soddisfa dal punto di vista anche del sentirsi proprio possiamo dire in pace con se stesso ha fame di serenità di pace ecco è in discordia con se stesso è tormentato quindi ognuno deve in qualche maniera soddisfare un bisogno una fame Gesù approfitta di questa gente che lo cercava perché perché ascoltava che cosa ascoltava da parte di Gesù ascoltava le parole del regno le parole di Dio le parole che nutrivano il senso della vita perché Gesù faceva capire che senso ha la vita che senso ha il bene per quale motivo siamo in questo mondo possiamo dire le risposte fondamentali che magari oggi molto distrattamente le persone non si fanno perché oggi abbiamo molte più distrazioni di allora oggi tante volte una persona non fa emergere queste domande perché è sempre impegnata sempre connessa con queste diciamo le relazioni virtuali sapete queste cose impegnano molto tra distrazioni impegni di lavoro impegni dei problemi da risolvere impegni anche di relazioni di social che ci impegnano di fatto queste domande uno non se le fa ma allora i ritmi della vita erano molto più lenti ecco la gente si muoveva a piedi di fatto quindi voi pensate ora noi ci muoviamo più velocemente ma facciamo mille cose siamo molto più affannati la gente per esempio arrivando a quest'ora già si aveva a giucare si aveva a curcare perché giustamente non essendoci luce elettrica si tu quanto puoi stare con la luce delle candele cioè a un certo punto si annoiava e si coricava e dormivano di più però di noi perché dormivano molto di più ora invece arriva a mezzanotte all'uno e due e poi a mattina a susere ecco quindi la vita è completamente cambiata come stile di vita ma le domande rimangono come le persone antiche anche noi abbiamo bisogno di nutrirci ora che succedeva che le persone per ascoltare Gesù si lasciavano affascinare da lui e lo seguivano però poi si trovavano che non avevano le risorse per mangiare ecco perché non c'era e Gesù dice a Filippo ma come possiamo fare per dare da mangiare a sta gente ecco è una provocazione per far capire che c'è bisogno di un aiuto di Dio anche nelle cose materiali non solo per la fame spirituale c'è un altro passo sempre nello stesso capitolo allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie perché un'altra cosa che magari io per ragioni di brevità non ho non ho messo qua Gesù chiede voi che avete e vi ricordate abbiamo cinque pani e due pesci questo è importante perché Gesù parte sempre da quello che abbiamo Gesù non è che dice vi manca il pane lo invento io ecco ecco lo creo io lo avrebbe potuto fare oppure alle nozze di cana non è che dice manca il vino ecco lo creo io dice voi che avete avete le giare avete l'acqua mettete l'acqua fate diciamo mettete la vostra parte perché io a partire dal vostro da quello che avete io poi io opero questa è una cosa che fa sempre il Signore c'è tanta gente chiede a Dio di fare tutto lui il Signore invece come stile di vita dice tu che fai tu metti quello che hai il tempo che hai l'energia che hai dice ma sono poche non ti preoccupare ecco tu comincia da quello che hai e io ti sosterrò certe volte per esempio la nostra buona volontà le nostre poche risorse non so il nostro piccolo contributo il nostro anche sacrificio personale è fondamentale per consentire a Dio di svilupparlo però vedete che tanta gente non fa così non entra nell'ottica di Dio tanta gente dice mi manca questo dammelo tu dammi questo come se dal niente il Signore dovesse sempre fare tutto cominciando da capo ma il Signore già la creazione l'ha fatta il Signore dice io ti ho dato delle risorse che hai cinque pane e due pesci bene dammeli ecco offrili a me che io poi li moltiplicherò o li dividerò ecco la cosa non è poi del tutto sai non si può dire manco sapete moltiplicazione del pane la moltiplicazione comincia dalla divisione si divide quello che abbiamo e mentre si divide si moltiplica ed è importante questo fatto sapete perché tutto quello che fa Gesù tutto quello che dice Gesù rivela come agisce Dio chi vede me vede il Padre quindi noi vedendo come agisce il Signore abbiamo la possibilità di vedere come agisce Dio Dio agisce così intanto si preoccupa Lui e si preoccupa delle cose materiali del pane materiale dopo essersi occupato del nutrimento spirituale quindi prima viene lo spirito e poi viene la carne vedete che queste cose non sono cose secondarie perché in altri posti quando Gesù parlava che manca il vestito manca il pane Gesù dice se vi mancano queste cose mettete prima il regno dei cieli e poi queste cose vi saranno date in più che è una logica che è contraria alla nostra noi diciamo mi manca questo il Signore dice prima delle cose umane ti manca il nutrimento spirituale prima preparati spiritualmente perché poi preparandoti spiritualmente tu hai la possibilità di affrontare i problemi materiali in maniera più congrua in maniera più efficace quindi vedete che la logica è molto importante che Gesù ci dice cioè fino a quando noi vogliamo affrontare i problemi umani a partire dalle cose umane noi non abbiamo le risorse per farlo ma se ci prepariamo dentro spiritualmente mentalmente poi affronteremo i problemi umani in maniera più efficace invece che succede che quando ci manca una cosa umana materiale noi già ci confondiamo ci disperiamo ci buttiamo in cose facciamo scelte sbagliate e poi le cose si infossano sempre di più invece Gesù ci dice no prima il nutrimento spirituale poi io ci penso per aiutarti anche per il pane fisico per aiutarti col pane fisico che cosa hai tu dici cinque pane e due pesci benissimo mettiamoli insieme mettiamo insieme le risorse che abbiamo e poi li moltiplica cioè quindi Dio segue una logica che è diversa dalla logica degli uomini e a poco a poco noi alla scuola del Signore della Bibbia abbiamo bisogno di imparare la logica di Dio in modo che durante la giornata noi possiamo collaborare meglio con Dio perché se noi abbiamo una logica Dio segue un'altra logica va a finire che lui piglia una strada e noi ne pigliamo un'altra e poi ci sembra strano come mai noi siamo soli ma non è che siamo soli perché Dio ci ha abbandonato è perché noi abbiamo seguito un'altra strada quindi se noi seguiamo impariamo la logica di Dio e cerchiamo di seguire la logica di Dio allora noi abbiamo la possibilità di capire meglio come agisce Dio e di sperimentare che Dio è veramente la nostra risorsa di salvezza perché Gesù è una persona che sempre vuole aiutare l'umanità sempre cioè se l'umanità patisce è perché si è allontanata da Dio per questo c'è bisogno di festeggiare un altro Natale perché abbiamo bisogno che venga ancora perché l'umanità ne ha bisogno e l'umanità ha bisogno di dire vieni Signore perché ho bisogno di te quindi si rinnova ogni anno questa richiesta vieni Signore vieni Signore perché c'è bisogno ancora del Signore non siamo in una condizione di poter anche fare autonomamente abbiamo bisogno di Lui andiamo avanti allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e anche sto fatto per esempio di farli sedere sapete è importante non si tratta qua di slow food cioè di fare un pasto non veloce non fast food ma proprio di dire le cose il Signore vuole che le persone veramente vivano una vita non comoda però una vita più tranquilla una vita più serena li fece sedere poi non c'è riportato qua li fece sedere sull'erba proprio comode e lo stesso fece per i pesci quanto ne volevano anche questo quanto ne volevano senza un limite perché il Signore fa sempre le cose all'ingrosso sempre tutto quello che fa il Signore lo fa bene e quando furono saziati disse ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto e qua c'è anche un altro segno per noi noi ancora ci stiamo imparando ora a riciclare la spazzatura a non permettere che vedete che Gesù è per il riciclaggio al 100% cioè Gesù è una persona Dio è una persona che non ha creato le cose perché fossero una perdizione Dio ha fatto in modo che la natura quando noi impareremo a riciclare le cose sia rispettata e che le cose non vanno sciupate e buttate per esempio il fatto di usa e getta per esempio non è una logica evangelica perché ci sono cose che possono essere utilizzate altre volte che possono essere utilizzate meglio il fatto di buttare di riempire spazzature tonnellate tonnellate di spazzature che fra l'altro inquinano tra l'altro non è una logica conforme alla Bibbia conforme al Vangelo il Papa ci ha fatto pure un'enciclica ecco su queste cose vi accorgete che siamo impreparati anche dal punto di vista spirituale per affrontare questo quanti miliardi se ne vanno così in fumo per inquinare per fare perché non abbiamo la logica che Gesù esprime pensate che cure eppure guardate i pezzi di pane e di pesce erano noi diremmo biodegradabili quindi potevano anche stare sulla terra nel giro di una settimana si sarebbe integrate eppure dice che nulla vada perduto raccogliete tutto perché tutto deve essere fatto bene ecco sono cosette che credo ci insegnano tante cose se andiamo avanti sempre nel capitolo 6 avete capito già che il capitolo 6 è il capitolo del pane allora la gente visto il segno che egli aveva fatto compiuto diceva questo è davvero il profeta colui che viene nel mondo ma Gesù sapendo che venivano a prenderlo per farlo re si ritirò di nuovo sul monte lui da solo attenzione torniamo un attimo indietro perché questo è importante una svolta importante intanto il profeta perché dicono così al singolare il profeta non dicono un profeta perché c'è un passo biblico più di un passo biblico intanto uno deuteronomio che ora citeremo in cui il signore aveva detto io manderò il profeta un profeta che dirà le mie parole e questo era Mosè che avrebbe avuto un ruolo fondamentale per la liberazione del popolo di Israele però il signore manda un nuovo profeta il profeta come è come se ti dicessimo un profeta come Mosè il profeta o perlomeno potremmo dirlo il profeta promesso che possa salvare che debba salvare il popolo attenzione prima lui la gente dice questo ma Gesù capisce che a partire dalla da questa interpretazione che fanno dell'Antico Testamento aspettavano questo profeta che li salvasse lo vogliono proclamare re perché c'era questa mania che il ruolo politico fosse quello di sfamarsi questa è una logica della politica che ancora non ci siamo tolte di dosso il fatto che chi mi fa mangiare lo proclamo re cioè quello l'amministratore pubblico la persona che oggi come oggi si direbbe è incaricato di svolgere il ruolo di giustizia pubblica e di salute pubblica viene interpretato come uno che mi deve fare mangiare che poi a sua molta mangia pure lui quindi è un mancia mancia perché tutto è legato a questa logica appena gli ha dato il pane si sono saziati d'altronde pane e pesce è un buon mangiare vedete pane fresco e pesce fresco è un mangiare anche di un certo livello dice a posto siamo questo facemo re questo ne fa mangiare io facemo re vi accorgete che la logica è sempre quella che poi dà purtroppo il terreno per la corruzione perché ammanciare perché dobbiamo sfamarci e per poter utilizzare il bene pubblico per saziarci noi perché ognuno si possa saziare questa è una vecchia logica dell'umanità corrotta che purtroppo c'è ancora ecco non pensate che sia passata questa questa mentalità però il passo vedete Deuteronomio 18 18 diceva è il signore che parla io susciterò per loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò vedete questa era una profezia che riguardava Mosè quindi come Mosè è stato il profeta che ha liberato Israele per la mano di Dio così Gesù è il nuovo profeta vi accorgerete che il parallelo tra Mosè e il popolo di Israele in fuga dalla schiavitù d'Egitto e il popolo diciamo l'umanità che ha di fronte Gesù non si esaurisce qui ci sono altri elementi che ora vedremo quindi susciterò un profeta allora loro si ricordavano questo passo biblico e riconoscono che Gesù può essere il profeta promesso allora come Mosè il profeta che ci libererà oggi in Giovanni 7 Gesù dice guardate nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù ritto in piedi gridò se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come dice la scrittura dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva per far capire che Gesù è fonte non solo il problema della fame e della sete vedete qua un parallelo si usa la simbologia della fame e della sete in modo parallelo perché si ha sete sempre e Gesù disseta si ha fame e Gesù sfama ecco andiamo avanti questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui infatti non vi era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato all'udire queste parole alcuni fra la gente dissero di nuovo costui è il profeta vi accorgete ritorna il parallelo sia riguardo alla fame sia riguardo alla sete quando Gesù sfrutta per far capire il suo ruolo la fame allora dicono è il profeta quando sfrutta la sete di giustizia la sete di felicità di nuovo il ritornello qual è? lo vedono come il profeta in tutti e due i casi Gesù viene visto come colui che è stato promesso per poter realizzare sia il problema della fame spirituale e umana e della sete quindi questo ruolo di Gesù nel libro dell'esodo questo primo profeta grande Mosè come era stato una delle caratteristiche qual era? guardate qual era il signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno parla con il proprio amico e poi questi tornavano nell'accampamento mentre il suo inserviente il giovane Josue figlio di Nun non si allontanava dall'interno della tenda quindi la caratteristica di Mosè era che parlava l'unico che poteva parlare con Dio faccia a faccia come un amico parla al suo amico per questo motivo poi poteva offrire all'umanità al popolo quello che Dio gli diceva quindi si è fatto tramite per l'intimità che aveva con Dio e questo è uno dei ruoli ma di fatto ora ci sono alcuni versetti che ci fanno capire che c'era un limite cosa che Gesù ha superato perché poi Mosè è solo un'immagine del vero profeta che è Gesù infatti il limite ora lo vediamo in questo versetto mentre in quel versetto 33 c'era da dire che Mosè era intimo con Gesù parlava come un amico parlava con un altro amico qua c'è il limite di questo rapporto che aveva con Dio disse il Signore a Mosè anche quanto hai detto io farò perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome gli disse Mosè mostrami la tua gloria cioè il tuo splendore fatti conoscere da me rispose il Signore farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome Signore davanti a te a chi vorrò far grazia farò grazie di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia soggiunse ma tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo aggiunse il Signore ecco un luogo vicino a me tu starai sopra la rupe quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché non sarò passato poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle ma il mio volto non si può vedere e questo è importante nonostante fossero uno di fronte all'altro e parlassero come un amico parla con l'amico però il suo volto non lo vedeva è un simbolo importante questo siamo nell'Antico Testamento ancora c'è una separazione tra Dio e gli uomini un velo qualche cosa che impedisce la vera comunione la vera conoscenza di Dio la profonda conoscenza di Dio quindi nonostante Mosè avesse dei gradi di intimità con il Signore ancora i tempi erano tempi di separazione tempi di estraneità non erano i tempi ancora maturi per l'intimità per una conoscenza profonda faccia a faccia nonostante lui parlasse di fronte al Signore faccia a faccia ma non vedeva i dettagli del suo volto perché parlava come un amico il Signore dice hai trovato grazia davanti a me però la vera intimità il vero la vera conoscenza non c'era questa noi l'abbiamo ottenuta con Gesù e infatti c'è un passo successivo a questo Giovanni 1,18 all'inizio del Vangelo di San Giovanni in cui si risolve questo problema Dio nessuno l'ha mai visto il figlio Gesù unigenito che è Dio è nel seno del Padre e lui che ce lo ha rivelato sempre nel capitolo 1 non c'è questo passo non l'ho riportato si dice alla fine del capitolo 1 di San Giovanni la legge è stata data per mezzo di Mosè abbiamo fatto un passo avanti rispetto a quando non c'era manco la legge perché la legge rappresenta la strada che Dio ci offre per camminare sulla via del bene ma non è ancora l'intimità con Dio è la strada per camminare giusto e sono le regole per poter camminare sulla via del bene perché da soli non ce la facciamo ma ancora non c'è la vera intimità quella che ci soddisfa ma Gesù la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù quindi Gesù risolve il problema della vera conoscenza di Dio cioè noi che siamo con Gesù che seguiamo Gesù abbiamo la possibilità di conoscere chi sia veramente Dio Dio com'è quando arriveremo in paradiso noi vedremo esplicitamente il paradiso il Signore però non avremo una novità assoluta perché già conosciamo quanto è buono il Signore già ci possiamo nutrire di Lui già possiamo coltivare una vera amicizia ed è importante questo i grandi mistici quelli proprio veri quelli autentici mistici ci hanno confermato che la loro esperienza di Gesù di Dio Padre dello Spirito Santo è autenticamente rivelata nella Bibbia cioè come Santa Teresa Santa Caterina da Siena Santa Gemma Galgani San Francesco Padre Pio hanno fatto l'esperienza diretta del paradiso di Dio e la conferma che quello che dice il Vangelo che dice la Bibbia è vera ecco viene rivelata nella Bibbia viene offerta come realtà dentro di noi ma loro l'hanno vista in maniera esplicita l'hanno vista quella che noi vedremo molti diremo che tra di voi non ci sia qualche mistico grande però in genere noi la vedremo in paradiso ma loro l'hanno anticipata a ora per volere di Dio per darci la testimonianza che ci serve a noi questi grandi mistici sono i testimoni dell'invisibile i testimoni della verità cioè uno che legge per esempio la vita di Santa Caterina da Siena si stupisce di come il Signore parlasse con lei di come il Signore si manifestava nella sua vita anche Santa Teresa d'Avila è molto bello questo fatto perché ci fa capire che il Signore chiama queste persone per noi non dovete pensare che è un regalo speciale che ha fatto a Santa Caterina ma il Signore ha dato a Santa Caterina il compito di testimoniare le cose che ci servono a noi è importante anche Padre Pio anche Natuzza Evolo che ancora il suo cammino verso la la beatificazione o anche la santificazione e gli onori degli altari è ancora giustamente da poco che è morta però anche Natuzza Evolo è una testimone autentica dell'invisibile voi pensate che la chiamavano la radio dell'aldilà perché tante volte proprio lei aveva questo contatto con col Signore e che le parlava e con anche le persone morte per esempio che Gesù stesso ha detto sono viventi ma non si tratta guardate è una cosa completamente diversa dalle sedute spiritiche cioè le sedute spiritiche sono fuori della logica del Vangelo perché sono cose cercate dagli uomini queste invece erano cose che lei stessa manco si rendeva conto che diciamo erano cose scelte da Dio il Signore l'ha scelta che poi ha avuto un'infanzia troppo anche dolorosa un'infanzia proprio veramente umiliante però il Signore l'ha scelta a Natuzza come a Padre Pio anche anzi tra l'altro avevano un contatto perché tutte e due tante volte avevano delle bilocazioni si risolvavano da qualche parte con Natuzza e con l'Occupace Pio e poi si scambiavano come per dire si rivedevano quando ero da quella là quella signora e c'era Padre Pio con lei quindi sono cose poi testimoniate anche da persone da testimoni che li vedevano ma questi sono coloro che ci aiutano a capire quello che il Vangelo ci rivela che noi abbiamo il mondo visibile però non c'è solo il mondo visibile Signore creatore del cielo e della terra delle cose visibili è invisibile e quindi c'è il mondo dell'invisibile che è un mondo che arricchisce la nostra vita tra l'altro anche noi uomini abbiamo delle cose che sono invisibili tant'è vero che noi dobbiamo mostrarle altrimenti non possiamo cioè l'amore che portiamo nel cuore tante volte lo dobbiamo mostrare fuori perché altrimenti le persone non lo capiscono che li amiamo è giusto scusate se una persona non sorride a un'altra persona non fa una carezza non ci regala un simbolo e c'è l'autocomu capisci che tu la ami è giusto noi abbiamo la necessità di mostrare l'amore infatti i bambini hanno bisogno che noi gli mostriamo affetto cioè i bambini non capiscono i sacrifici che noi facciamo per loro i bambini percepiscono soprattutto quello che mostriamo se una persona per esempio ama un'altra persona e mostra poco quella persona può darsi capire che non capisce che la ami perché noi siamo costretti a mostrare come si mostrano le cose si mostrano pure con un regalo no? cioè quando una persona gli regala una rosa quando una persona regala un sorriso vuol dire che ci stanno certo è diverso che ci torna un pugno se ci torna un pugno che muore festa affetto no ecco se diciamo se noi mostriamo tante volte cose negative le persone pensano negativamente perché noi portiamo un mondo dentro quindi noi abbiamo un mondo dentro di noi e abbiamo anche un mondo diciamo che è diverso da quello umano tra un poco celebraremo la Santa Messa non è che vedremo Gesù fisicamente Gesù però sarà presente almeno in tre modi diversi nell'assemblea che si riunisce c'è Gesù dove due sono riuniti nel mio nome la parola di Dio è una presenza del Signore diversa perché il Signore ci parla e diremo parola del Signore parola di Dio l'Eucaristia è una terza presenza diversa di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino quindi queste tre presenze speciali noi a casa nostra se fossimo a casa nostra non avremmo queste tre presenze cioè il fatto che siamo riuniti in assemblea tra di noi visto che siamo battezzati ecco rende la presenza di Dio più forte più viva uno la parola del Signore proclamata in maniera ufficiale è un'altra presenza fondamentale perché ci illumina e la terza presenza è quella eucaristica che ci nutre con il suo amore quindi noi fra un poco celebreremo fra l'altro una cosa che già abbiamo noi abbiamo Gesù nel cuore se siamo in grazia abbiamo Gesù perché lo celebriamo per alimentarci perché abbiamo bisogno di crescere come una pianta che ha già ricevuto l'acqua e il sole ma ha bisogno di altra acqua altro sole per poter portare frutto poi quindi c'è tutto sapete noi certe volte non ce ne accorgiamo perché noi ci fermiamo al rito ma se capiamo bene il rito noi ci rallegriamo perché attraverso il rito si manifesta in effetti una presenza di Dio fortissima tanto forte che proprio è fisica la presenza di Gesù nell'Eucarestia vediamo ancora abbiamo qualche minuto se non siete stanchi andiamo avanti con questo discorso perché è un discorso importante allora se andiamo avanti ora ci sarebbe il Salmo 119 che fa l'elogio è un Salmo molto lungo questo qua il 119 è un salmone diciamo così in un certo senso un Salmo lungo lungo che parla che comincia così beato chi è integro nella nella sua via e cammina nella legge del Signore siamo ancora a livello di ubbidienza vi dicevo ancora siamo nell'Antico Testamento non c'è l'intimità con Dio che ci permette che permetteva loro di coltivare la presenza forte del Signore in maniera proprio comunionale possiamo dire qua ancora siamo a livello di impegno di non allontanarmi da Dio ma è prezioso pure questo noi non ne possiamo fare a meno perché anche per noi è importante alimentarci nella fedeltà alla legge del Signore beato beato che custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore voglio osservare i tuoi decreti non abbandonarmi mai vedete è un grido molto bello molto importante ho bisogno che tu mi parli mi dica quello che devo fare Signore in modo che io ho la possibilità di non di non uscire fuori dal seminato di non uscire fuori dalla giusta via perché sapete il nostro cervello le nostre sensazioni ci possono ingannare vedete che quando noi siamo per esempio molto tristi molto angosciati noi siamo pericolosissimi appena noi siamo angosciati o impauriti o rabbuiati appena siamo nervosi o siamo delusi cioè noi vedete che le scelte che facciamo quando noi siamo in quelle condizioni poi sono distruttive perché una persona che che è angosciata una persona che è tormentata una persona che non è in pace fa scelte sbagliatissime sempre in quei momenti noi abbiamo bisogno invece di aggrapparci alla legge del Signore e dice no questo non si fa questo si fa sembra una cosa elementare ma è così se non c'è una una strada che il Signore ci dice questa è la strada giusta io sono la via cioè di fatto noi è come se è come se non ci fossero cartelli stradali e non ci fossero indicazioni stradali e non ci fosse google map cioè ognuno va a senso così cammina e dice speriamo che non sbagli usciata poi va sbagli usciata e perde tempo o casca in un burrone cioè la legge del Signore è una direttiva importante perché ci indica che certe cose sono sbagliate allora ubbidire alla legge del Signore rende beati e questo credo che oggi come oggi la nostra società ne ha molto bisogno ora c'è un passo di proverbi sono gli ultimi passi di oggi la sapienza si è costituita una casa ha intagliato le sue sette colonne ha ucciso il suo bestiame ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola chi è inesperto venga qui a chi è privo di senno e la dice venite mangiate il mio pane bevete il vino che io ho preparato abbandonate l'inesperienza e vivrete andate diritti per la via dell'intelligenza vedete la simbologia la sapienza che sarebbe la capacità divina di assaporare il bene cioè di vivere il bene per esperienza è come una persona che ci ama e imbandisce la tavola e dice non andate di qua e di là a cercare mangiare mangiate quello che io vi ho preparato sono cibi che vi nutrono veramente vini che vi inebriano in una maniera sobria positiva quindi è come se il Signore ci invitasse a un banchetto vi viene in mente che l'Eucaristia è un banchetto è già una mensa beati gli invitati alla mensa già nell'Antico Testamento si parlava di questa sapienza di Dio che poi sapete che quando si parla di sapienza poi noi dobbiamo noi cristiani sappiamo che Gesù è la sapienza di Dio fatta uomo ecco la sapienza ha il volto di Gesù quindi Gesù prepara una mensa e dice voi che non avete esperienza perché oggi c'è la mania di dire io voglio fare tutte le esperienze certe volte giustamente quando eravamo giovani avevamo anche noi questa specie di mentalità di fare tutte le esperienze solo che purtroppo tante volte si fanno delle esperienze e uno rimane incastrato in quelle esperienze negative perché non tutte le esperienze sono innocue ci sono esperienze che uno sbatte il naso e può riprendersi facilmente ma ci sono esperienze che sono o letali oppure ci vogliono anni e anni per svincolarsi dalla conseguenza di quelle esperienze sapete quindi ci sono esperienze irreparabili ci sono esperienze che ti lasciano mortificato che ti lasciano anche male malato quindi è una cosa delicata ma il signore dice voi che non avete esperienze non c'è bisogno che rischiate venite perché io alla mia mensa che sarebbe la mensa della parola vi nutro con cose buone che non vi fanno male e che chi le mette in pratica poi si accorgerà che si nutre bene cioè che cresce nel bene c'è proprio la proposta di Dio sapete nella Bibbia mi dispiace molto che il messaggio biblico vi accorgete che noi tante volte non lo abbiamo sotto gli occhi facilmente d'altronde ve lo ripeto ancora una volta queste cose non si possono dire in una messa perché non è che puoi fare tu a fare la messa non può diventare una lezione di Bibbia perché sarebbe un poco diciamo anche inopportuno trasformare una celebrazione della presenza di Dio in una lezione per cui bisogna avere delle assemblee un po' come quello che stiamo vivendo in cui una persona o prima o indipendentemente dalla celebrazione approfondisce la parola di Dio tra l'altro anche il nostro vescovo giustamente nella lettera pastorale che ha fatto giustamente ora si comincia a capire lo compiscono pure i vescovi che non è tanto necessario la celebrazione che è già una cosa importante bella ma prepararsi bene con l'Alezio divina cioè sminuzzando la parola di Dio e cercando di capire quello che Dio ci vuole dire poi questo ci consente di partecipare meglio a Messa perché ci consente di capire quello che Dio fa ed è bello questo fatto che fin dall'Antico Testamento la sapienza la sapienza imbandisce una tavola per tutte le persone affamate di felicità diciamo diremmo così chi ha bisogno chi sente il bisogno la fame la sete di felicità di verità di luce di bene venga a mangiare a questa mensa dice il Signore perché io do cibi buoni Giovanni 4 Gesù disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera vedete Gesù stesso applica a sé l'ubbidienza al Padre Gesù non si vergogna di essere ubbidiente sapete Gesù inaugura anche questa umanità prima di Gesù ubbidire a Dio era una sottomissione ubbidire a Dio era un segno di umiliazione come per noi tante volte ubbidire è un segno di colui che deve essere sottomesso ma Gesù inaugura un altro tipo di umanità si vanta di essere ubbidiente al Padre si vanta Gesù io sono l'ubbidiente è una cosa un po' che la Madonna ha imparato noi per esempio ubbidire a Dio è una gioia dice Gesù ubbidire agli uomini a volte è una necessità perché certe volte bisogna ubbidire a un medico e gli insegnanti certo ubbidire fa parte del crescere l'ubbidire fa parte della condizione umana ma ubbidire a Dio è diverso perché ubbidire a Dio è il vanto mi vanto di essere ubbidiente a Dio perché Dio è il bene assoluto Dio è l'amore perfetto Dio è la perla preziosa della mia vita quindi ubbidire a Dio è ubbidire al bene se non si ubbidisce a Dio si cade nel male che poi sarebbe il primo peccato vi ricordate quindi c'è tutta una logica molto bella e Gesù si vanta e dice io ancora loro non lo sanno che Gesù è Dio Dio fatto uomo ma già Gesù come uomo dice vedete Gesù disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato è compiere la sua opera io sono per questo in questo mondo Giovanni 6 33 che poi ehi forse no poi c'è un altro passo infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo Gesù rispose loro io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai Gesù intanto oggi finiamo un po' con questo perché vi ricordate poi affronteremo la prossima volta perché ora non c'è il tempo il rapporto tra la manna di Mosè e il vero pane Gesù stesso poi dirà sempre nel capitolo 6 Mosè vi ha dato la manna nel deserto ma la manna era solo un cibo possiamo dire umano che vi serviva da parte di Dio come provvidenza ma era un cibo umano che serviva per arrivare alla terra promessa infatti appena arrivarono nella terra promessa la manna sparì era il pane del cammino che è un po' possiamo dire l'anticipazione dell'eucarestia il pane del cammino anche noi oggi ci subiremo di questo pane ma Gesù dice vedete che c'è una differenza perché Mosè ha dato la manna da parte di Dio ma le persone che si sono nutrite non sono sfuggite alla morte vera mentre chi mangia la mia carne beve il mio sangue non morirà perché perché dentro di noi c'è già la vita eterna quando anche noi noi parliamo di noi moriremo fisicamente in realtà davanti a Dio non è una morte perché Gesù stesso lo disse al buon ladrò oggi stesso sarei con me in paradiso muore solo la nostra fisiologia la nostra parte materiale in attesa della risurrezione ma vi ricordo che Gesù ci rivela che nutrendoci dell'eucarestia noi abbiamo la possibilità di sfuggire alla morte vera che poi vi ricordate che nell'Apocalisse anche San Francesco ne parla perché è sola morte dalla quale null'uomo può scappare e ci permette di liberarci dalla seconda morte quella della dannazione la seconda morte di cui parla l'Apocalisse è la dannazione eterna il fatto che rifiutiamo Dio nella vita eterna quindi dal punto di vista cristiano quando una persona noi diciamo umanamente muore in realtà davanti a Dio non muore perché il suo corpo rimane qui ma la sua persona diremmo la sua anima noi diciamo tecnicamente l'anima ma l'anima comprende anche la personalità la volontà l'intelligenza la fantasia la capacità di amare la capacità di conoscere cioè tutto quello che c'è dentro di noi che dà anima cioè che dà vita al corpo di fatto rimane viva e quindi è bello non chiamate morti coloro che vivono in Dio perché il Dio dei vivi e non dei morti quindi sapete guardare le cose con gli occhi del Signore è importante perché ci fa capire il vero senso della morte perché tante volte se uno non è preparato alla convinzione che il morto in casa è la fine in realtà non è la fine è il compimento della vita di una persona la vita davanti a Dio comincia qui e si completa nel regno di Dio la vera vita la vera felicità dice il Signore non sta sulla terra perché anche Gesù Dio fatto uomo sulla terra non ha avuto una realizzazione umana ma non se ne fece un problema Gesù mai Gesù ebbe l'atteggiamento di una persona sconsolata irrealizzata tutti i guai che ha vissuto Gesù li ha vissuti come una missione e ci insegna a vivere nel modo migliore Gesù ci fa capire che le cose di questo mondo sono limitate ma Gesù le vive come un compimento di una salvezza utilizza le croci le sofferenze come compimento dell'opera di Dio ma la sua aspirazione è quella non so se vi ricordate Giovanni 14.1 non siate tristi io vado a prepararvi un posto in cielo poi andrò e tornerò e starete sempre con me cioè è una visione della vita quella che Gesù rivela quella che Gesù ci fa conoscere una visione della vita molto diversa o fondamentalmente diversa da quella che possiamo avere noi cioè alla luce di Gesù noi comprendiamo la vita da un punto di vista divino la cosa è proprio bellissima perché ci permette il Vangelo e la vita cristiana e lo Spirito Santo di capire la vita come la capisce Dio di intendere la vita come la intende Dio di valutare la vita come la valuta Dio mentre prima di Gesù Cristo gli uomini hanno sempre visto le cose dal punto di vista degli uomini e diverse dal punto di vista di Dio Gesù Cristo invece ci rivela la verità chi ascolta le mie parole Giovanni 8 chi ascolta le mie parole diventerà mio discepolo ecco e la verità lo renderà libero dalle idee sbagliate da tutti i condizionamenti in cui purtroppo noi uomini siamo condizionati da tante cose ecco grazie a tutti